In ogni cosa, se un nuovo genitore volesse collaborare, si può rivolgere ai rappresentanti di classe che possono dare riferimento di una mamma di una nonna di seconda che lavora con noi in modo molto attento e partecipe. Quindi questo grazie di nuovo. Se poi ci sono delle macchine disponibili dopo, per me. Grazie e buona scolta. Grazie a tutti. 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 Scusate ehm... Vi chiedo la contesia anche se vi non l'avete chiesto voi, noi suoniamoma ancora una volta a questo心ario. per studio perché lo facevamo al doppio della velocità e stasera ormai sono partiti tutti sono già lento, stanno già dormendo tutti per cui ci sentiamo ancora a me grazie 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 Grazie.